Leggi il giornale, fidati. Direi che questa cappella appartiene a Dio, ma poiché non ho mai deciso a quale Dio in particolare, immagino tu possa dire che appartiene a tutti loro. Ora, se hai bisogno di un luogo tranquillo in cui sederti a meditare sull'Onnipotente, in qualunque forma tu preferisca, siamo sempre aperti. Non praticate nessuna religione particolare qui? Finché le persone credono in qualcosa, sono le benvenute. Diamond City è piena di gente che cerca di costruire una vita migliore. Io voglio solo che non dimentichino cosa li rende umani. Quindi, questa cappella è sempre aperta per qualunque culto, purché pacifico. Grazie, pastore. Fai come se fossi a casa tua. Non so quale Dio dovrei pregare. Il pastore dice che non ha importanza. Prima volta, cerca di fare silenzio.